Io sono Andrea, Andrea Argento, della ditta Beelight SRL di Gavardo in provincia di Brescia. Siamo produttori di macchine per pasticcerie, siamo qui per la prima volta a New York, siamo stati in altri paesi mai qui, questa è la prima volta, è stata la nostra prima occasione con Beelitalian, anche grazie a Beelitalian e a tutta l'organizzazione che comunque sta dietro a questo evento. Da parte nostra c'è stata la volontà di portare ovviamente la qualità dei prodotti italiani, noi siamo produttori di macchine per pasticcerie, in particolare ci stiamo specializzando nel settore del cioccolato. Siamo i primi nel settore del cioccolato con la tecnologia del controllo remoto, quindi la possibilità di connettere la macchina dall'Italia in tutto il resto del mondo e effettuare dei check, effettuare delle verifiche di stato e quindi controllare il corretto funzionamento ed eventualmente intervenire telefonicamente dopo aver identificato il problema, l'eventuale problema. Beelitalian è stata secondo me una bella idea, la possibilità e comunque il fatto di trovarsi qui tutti insieme a portare avanti il nostro essere italiano e la nostra qualità, tutta una serie di caratteristiche che condividiamo l'una con gli altri, secondo me è stata una bella idea. Io posso dire che Beelite è contenta di partecipare a questo evento, che può essere la possibilità di fare breccia in un mercato che ancora non stiamo sfruttando, che ancora non conosciamo, che potrebbe portare dei bei frutti.